Una visita di cortesia per salutare da vicino l'amico Paolo Passamonti e soprattutto per vedere da vicino, da molto vicino, il problema dell'erosione costiera. Da un lato abbiamo un problema che è quello dell'erosione costiera che non riguarda solamente questo territorio ma riguarda purtroppo tutta la costa adriatica. Ci sono delle zone dove si è intervenuto bene e che sono state in qualche modo risolte invece in altre zone dove purtroppo quella che è la miniera, la risorsa economica più importante di un territorio, evidentemente anche per tutta una serie di lavori sbagliati del passato, ci si è ridotti adesso a degli interventi, è proprio il caso di dirlo, di vere emergenze. Speriamo che si possa fare qualcosa. Sicuramente il candidato che sono venuto qui oggi ad appoggiare è una persona concreta, come direbbero i tecnici, è un uomo del fare e quindi non vi è il minimo dubbio che lui sarà in grado di risolvere questo problema. Non così nel breve termine ma guardando un po' nel medio e lungo termine che è quello che serve per questo genere di problematiche e per questo genere di cittadinanza. Investire le risorse che sono sicuro saranno molto esigue del suo comune, dell'amministrazione che lui presto andrà a dirigere, soprattutto in questo settore per cercare di mettere a posto quello che è il dissesto idrogeologico. Io l'ho sempre detto, meno saghe della salsiccia e più interventi di prevenzione per la propria terra. Anche perché qui il problema dell'erosione costera giova anche al turismo che è la fonte primaria delle gasse abruzzese. Ho detto, la miniera d'oro di Pineto come di tutti i comuni qui della costa si chiama spiaggia, si chiama mare e quindi ovviamente riguarda il turismo. Se noi andiamo a distruggere quella che è la risorsa più importante per questo territorio i turisti non ve ne hanno più, mi pare abbastanza banale come ragionamento. E quindi bisogna fare tutti gli sforzi necessari per mettere in condizione tutti quelli che vogliono venire da tutta Europa a fare il bagno a Pineto lo possano venire a fare nel miglior modo possibile. Mi pare abbastanza semplice. Quindi non ci vuole il premio Nobel in economia o lauree o no ris causa in cose particolari. Bisogna essere delle persone con un po' di logica, con un po' di buonsenso e con un'esperienza di cose fatte nel passato per riuscire a risolvere un problema che sembra elementare ma che evidentemente così non è.